Mimì, papà tua non ti può dare niente, soltanto una chitarra. Questo nome sta bene, c'è qualche cosa, venite e potete farlo sposare l'inizio che può andare bene, l'amore poi viene, non ti preoccupare, che significa che se tu ti facessero come dici tu, allora non si sposerebbe nessuno. Caro figlio, ho letto su un giornale che ti fai passare per un figlio di principe zingaro, io sono capoguardia municipale e non sono orgoglioso. Io sono capoglioso. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti